Signora regina, ma è vero che domani si guasta? A me e somaia, e per questo domani non si va a scuola. Infatti ti do questo messaggio urgente. Domani sarà all'arma aranciù. Pensa che è tre anni che non si verificava una roba simile. Ci saranno alluvioni, esondazioni, un macello, verrà giù ancora i torcoli, il ciborio. Ci sarà la seconda franna balducci e un vento che tirerà giù ancora la statua dei cavuri. E un dimmi!